Sarebbero più di 400 i lavoratori tra Caltanissette e Agrigento assunti durante l'emergenza Covid e per i quali il loro contratto potrebbe scadere il 31 di marzo. A Caltanissette infatti la scadenza coinvolgerebbe circa 200 professionisti, tra infermieri, ostetriche e os e altro personale sanitario. E dunque la segreteria territoriale del nursing, il sindacato delle professioni infermieristiche, chiede la proroga di questi cosiddetti contratti Covid. Come sindacato auspichiamo che i lavoratori assunti in forza agli avvisi per lo stato emergenziale, come anche quelli in forza secondo altri avvisi precedenti, possano vedere tutelata soprattutto la loro aspettativa ad un rinnovo contrattuale anche in considerazione degli enormi sacrifici profusi. La previsione di far fronte anche alla causa dell'eventuale mancata proroga di questi contratti in scadenza, a nuovo lavoro straordinario, a prestazioni fuori dall'orario di lavoro, a nuovi cambi ed assetto organizzativi, alla rinuncia delle ferie, anche in previsione della nuova riorganizzazione dei servizi territoriali con i fondi del PNRR. Chiediamo di fare un investimento sulle risorse umane già disponibili e formate in questo periodo pandemico. Quindi noi chiediamo come sindacato la via immediata delle procedure di proroga per tutti quei contratti in scadenza al 31 marzo 2022. Sarebbe un segnale molto importante che viene dato a tutti quei lavoratori che in questo periodo hanno dato il massimo della loro professionalità.